La palla finisce a Francesco Forte che rinvia, la palla attraversa tutto il centrocampo, attenzione che puga il pallone, il numero 6, attenzione si involla verso la porta De Luca, spinto, l'arbitro dice che è tutto regolare, lo invita a rialzarsi, c'è stata una palla ciccata di testa da parte del numero 6, Nigro, De Luca si è involato.